I rappresentanti della consulta regionale europea per la decima legislatura si sono insediati a Palazzo Lascaris, Presidente Delegato e Daniela Ruffino, Vicepresidente del Consiglio. La consulta è composta da rappresentanti delle organizzazioni europeistiche, associazioni imprenditoriali, enti locali, sindacati, partiti politici e dagli europarlamentari. Presenti anche i rappresentanti della Giunta regionale e di tutti i gruppi consigliari. Un grande momento per il Piemonte e non soltanto, direi anche per l'Europa, l'insediamento della consulta europea nella Sala Viglione, un periodo che ci permetterà di lavorare intensamente per l'Europa, per la conoscenza dell'Unione Europea in un momento come quello del semestre europeo e direi anche con un coinvolgimento molto importante per i ragazzi piemontesi e non soltanto per loro.